Vorrei non essere mai venuta qui. È stato un grande errore. Tamako, hai portato gli acquarelli, non è vero? Certamente li ho portati, signor Conte. Ho preso gli acquarelli e anche i pennelli. Torna subito indietro a prendere i colori a olio. In una giornata come questa sono quelli giusti. Avanti, che aspetti. Sì, non è vero. Un'interruzione di corrente Prendete le lanterne Sì signora, quanto è presto Basta Voglio diventare ricca Salpare per un porto lontano Mangiare cibi di cui non conosco l'esistenza E comprare tutto quello che mi pare E non pensare ad Eko Smettere di pensare a lei